ciccioli belligeranti a mintore l'italia del 1962 vi danno il benvenuto in questo nuovo episodio sulla cold world iron curtain mode per airsoft iron 4 la guerra in cina prosegue prosegue con gli italiani che sono arrivati a dare supporto è una guerra che in offensiva onestamente non stiamo conducendo noi ma il fratello hamburger grasso grosso statunitense fratello hamburgeroso che peraltro a breve dovrebbe darci anche un po di equipaggiamento un po come dire obsoleto ma va pur sempre bene allora towed antitec tank direct fan gun emplacement che cazzo è è questo questo qui ci serve noi questo qui ci serve stiamo sotto madonna quanta roba che consumano ma dobbiamo fare come zelensky a mintole come zelensky che va da kennedy c'è ancora kennedy negli states si ehi fit gerard senti li dai gli atacams no magari ok 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 dunque allora i prossimi step 94 giorni e possiamo sparare possiamo sparare ancora razzi nello spazio qui investiamo molto bene extra tech slot molto bene dai che finalmente l'italia è in pieno boom non solo economico ma anche cervellottico perfetto mi sa che abbiamo industrializzato qualsiasi cosa comunque qua mi sa che abbiamo industrializzato qualsiasi cosa vai partita la costruzione delle infrastrutture in sicili dobbiamo tenere sempre sotto controllo l'energia elettrica ragazzi infatti siamo in deficit infatti siamo in deficit dobbiamo produrre energia elettrica poi possiamo fare altre due centrali nucleari possiamo fare due centrali nucleari ne facciamo una in sicilia e una qui diamo priorità diamo priorità ci vuole un annetto dobbiamo importare energia elettrica dobbiamo importare energia elettrica eh no questa non si può importare pericoloso sta cosa pericolosa ok questa qui però a novembre viene pronta pronto signore via continuare spostiamoci a nord oh no oh no state qua a sud per amor di dio state qua a sud perché qua a sud hanno lasciato tutto in mano a noi italiani attenzione si fidano gli stati uniti di noi faranno bene lo so l'estercella si è tutta nostra la superiorità aerea qua contestata però la libia la deve smettere ok extra tech slot nuclear effort molto bene allora qui io direi andiamo a vedere research speed via siamo al passo coi tempi non ci credo ragazzi siamo al passo coi tempi aspetta che qua dobbiamo andare a influenzare il sudicio prendiamo un debituccio di pipì no non va giù va bene lo stesso 86 eh ci vogliono ancora tic ci vogliono qua serve un sacco di political power una cosa che noi possiamo vedere è a sto punto come siamo messi con i subject allora la libia la libia dovrebbe dovrebbe essere sistemata una volta per tutte comunque ma perché sono su layer modifi land lease vediamo che cosa possiamo mandarli noi potremmo mandarli potremmo mandarli degli steward che però non aumentano un cazzo questi siamo 20 d'artiglieria noi quanti ne abbiamo mandiamogli alle 100 al mese se no andiamo a saturare la nostra capacità di convogli che non è che sia il massimo eh voglio annetterla voglio annetterla il primo possibile aspetta qua che c'è l'arab tic via 87 dai che siamo siamo vicini al 90% adesso ci conviene incamerare political power ragazzi ci conviene incamerare political power andiamo a ricercare la solid core rocketry e facciamo partire altre missioni spaziali facciamo il soft moon landing senza equipaggio e poi la spacewalk molto bene perfetto arriviamo col vtt trasporto truppe così almeno siamo praticamente a livello fatto il nuclear effort secret weapons così portiamo a termine quel ramo di focus per quanto riguarda la construction dai che è quasi pronta sta centrale nucleare mi serve più di ogni altra cosa perché abbiamo meno 5 meno 5 di energia elettrica è un salasso per noi è veramente un salasso ok energy meters questo non mi interessa perché siamo andati col nucleare allora float glass petrol chemical refinery petrol chemical refinery noi potremmo andare ad aumentare la construction non c'è niente che ci aumenta la construction eccola qua ci aumenta un po' la velocità di construction che non è che sia altissima controlliamo sempre la politica siamo ancora il primo partito però col PLI attenzione col PLI 12% siamo al 50% questo è attenzione risicati 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 proviamo a sfondare di qua pronto signore perché li buttiamo giù la divisione carri siamo pieni di command power allora io direi che potremmo spostare eh no sì non riusciamo a spostarli qui dagli la touch pronto signore sfondateli secret weapons e vai con l'altro reserve slot ole ole molto bene amintore amintore the researcher no albania no dannata libia 809 e qua ma quanto ci costa 15 fabbriche creare un'agenzia creiamola second generation research reactor molto bene noi potremmo ricercare le mbc weapon col sarin e le le armi le bio weapon ma direi di no direi che direi che potremmo iniziare a migliorare le fanterie visto che le stiamo utilizzando siamo con l'influencing nation siamo all'89% ancora un tic e poi ci servono 500 dpp per pappetizzare l'arabia saudita raga puppeting mamma mia abdullaziz non vedo l'ora di buttarti giù da lì ci vuole un po' di democrazia cristiana mio signore avanziamo con la dottrina possiamo fare anche la camminata nello spazio raga mamma mia mamma mia Italia all'avanguardia Italia all'avanguardia quante nucleari abbiamo 23 il nostro stockpile sta crescendo le armi segrete della dc è un grosso investimento per noi questo a livello di fabbriche per per l'agenzia delle entrate qua se che secondo me anche se questo è un tile di montagna se concentriamo forse riusciamo a sfondare sì signore ok abbiamo preso pronto sì signore formazione avanzate perfetto dai prendetemi sto aeroporto cazzo sta gente qua di merda però deve smetterla ok la deve smettere di mettermi gli aeri dove dico io avanzate dai che prendiamo cangascia dai che prendiamo no l'han presa che palle la prendono sempre gli americani sì signore è che qua si avanza in cina basta no non sfondate lì che c'è ci sono dei problemi qua finna questi Dai dai che prendiamo Changde Dai che prendiamo Changde Su Dai che prendiamo Changde È il Bulgarian Loop Abbiamo ricerca Libera Questa qui la buttiamo Sulle dottrine Sulle dottrine Sulle support Changde è caduta Changde è caduta State qua State qua Stacca qua sopra Perfetto Io direi a sto punto Ma siamo i consumer goods Ok American Advisor Fatti Sarplus equipment Sarplus equipment No qui hanno già sfondato Allora attaccate qua sotto Dobbiamo ributtagli indietro questi qua E c'è un carretto che però è senza equipment Disorganizzato Disorganizzato Senza equipment È proprio un carro cinese Molto bene Molto bene Molto bene Noi possiamo alzare il welfare Possiamo alzare il welfare Siamo in perdita Siamo in perdita ma va bene così Soldi da parte un po' ne abbiamo Adesso abbiamo anche l'energia elettrica Perfetto Pronto Avanzate Avanzate Via muoversi Una tigre di carta la Cina ragazzi Guarda che roba Guarda che roba Qui li abbiamo massacrati Pronto signore Formazione Pronto signore Me la fate prendere a me Sì l'abbiamo presa noi questa Carini e coccolosi Molto bene Bravo italico splendore Bravo Ma secondo me li abbiamo tolto Tutta la costa E la Cina La Cina non si rialza più Cioè noi Gli Stati Uniti Noi abbiamo preso qualche tile Carino Direi che va bene Team Weapon 2 Research finished Ha cercato anche il C3 Noi potremmo buttarci su Questa artiglieria del 65 Tu invece continua Ad ammodernare Le support company 29 nucleari Madonna 29 piccole Hiroshima Sì il sole Il sole adorabile Il sole adorabile Che splende Su di te A mintore Lui lo sguardo L'amore Che ha per te Ecco dammi un po' di surplus Sudicio Noi potremmo Dunque vediamo un po' Potremmo prenderci Il training aircraft Almeno andiamo a sbloccare sotto Se no non ce la caviamo più Pronto signore Avanzate Dare verso Xian Pronto signore Voi iniziate a spingere Formazione Iniziate a spingere qua raga Pronto signore Pronto signore Formazione È arrivato Il lancio italico È arrivato Il lancio italico Vai Yun Cheng e Xian Veloci Formazione Formazione Pronto signore Pronto Avanzate Teneteli bloccati lì Teneteli bloccati lì Formazione Pazza Italia Pazza Italia Avanzate Pronto signore Vedi che questo forse è da sud Eh no me l'hanno rinforzato Però dovremmo farcela lo stesso Avanzate Sì signore Pronto signore Formazione Ok Yun Cheng cade Avanzate Avanzate Formazione Eh no Xian no Pronto Xian non vuole cadere Formazione Ma qui cos'è che abbiamo ricercato Ma noi a sto punto potremmo Potremmo ricercare gli FV anfibi Formazione Formazione Sì signore Avanzate Pronto signore Pronto signore Fuoco nemico Abbiamo preso No l'hanno presa gli Stati Uniti Ma che palle Oh Sono troppo lente le nostre truppe Mio signore Sì signore Non ci vogliono lasciare niente Questi sudici Pronto Avanzate Verso Chongong Verso Chongong Avanzate Avanzate Dai a Yana Che la prendi Dai che la prendi Dai che la prendi Su Sì L'abbiamo presa Molto bene Vai a Yanchuan Avanzate Ok 208 punti Io direi Facciamo Un tick All'Arabia Saudita Così abbiamo 90 E adesso Mettiamo da parte Soldi Per Annetterla 478 punti Di power Projection Abbiamo Allora Qui andiamo Per Il Weapon State Cosa serve Questo qua Weapon State Così facciamo L'American Doctrine Abbiamo 2,75% Di sconto Dopodiché Switcheremo Sul nostro Focus Interno Ovvero L'Armed Neutrality E iniziamo a prenderci Questi bonus qua Detto questo Ragazzi È il 15 giugno Del 1963 Amintore Amintore È esaltato Per le notizie Che giungono Dalla Cina Quindi Like a profusione E sotto Nei commenti Ditemi se Secondo voi Qualcosina Riusciamo ad ottenere Dalla Cina Dubito fortemente Però La speranza Dopo l'ADC È l'ultima morire Ciao belli